salve a tutti ragazzi sono chiara della tana di mister x adesso vi voglio mostrare questo gameplay che forse sono l'unica italiana ad avere questa esclusiva italiana e ad averlo completato è un gioco basato sulla serie di the ring che dire ne hanno parlato abbastanza male di questo gioco però io uno bisogna provarlo il gioco comunque adesso vi voglio solo dire quattro cosette l'ho giocato io non mister x lui mi ha fatto solo da supporto morale della serie vai chiara non ti preoccupare ti faccio da ragazza pompon mentre io giocavo adesso iniziamo a giocare questo qui è la prima vittima di turno adesso vedrete cosa succederà i filmati purtroppo ho notato che diciamo ha un doppiaggio abbastanza scarso secondo me è stato un errore di sviluppatori comunque è un gioco abbastanza raro trovarlo e io ho avuto la fortuna di trovarlo dal mio ragazzo e comunque lasciamo perdere questo poveretto è andato come si chiamava lui robert robert grazie non mi ricordo i nomi e diciamo che noi dovremmo impersonare mag che è la sua fidanzata era la sua fidanzata vabbè poi c'è l'anima sua che sta ritornando a casa dal lavoro da quanto ho capito nei dialoghi e poi vedrete cosa succederà le animazioni non sono neanche brutte perché sinceramente mi è piaciuto e poi la grafica della dreamcast era molto avanzata al tempo cioè cavolo era anche maggiore da ps2 sì sì no 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 sì sì cosa è questa macchina sembra una alfa no una ford da ford e comunque adesso vedrà che a casa a casa del suo ragazzo c'è la polizia ci sono come si chiamano i vigili la scientifica anche sì ma questo è lucchino si chiama lucchino e non è una presa in giro si chiama proprio lucchino lui è un genio e qua lo stanno portando via il corpo chissà cos'è successo e lo scopriremo insieme oh madonna mi dispiace per robert credo che sia un trama è vedere il proprio caro morto comunque no è proprio bello ragazzi ve lo consiglio tantissimo come gioco e sono fiera di mostrarvelo io da italiana ragazza è che di solito questi giochi ci giocano più i maschi da ragazza far vedere questa esclusiva e tanto e sono davvero orgogliosa di aver realizzato questo per voi e spero che vi piacerà oddio certi modelli fanno schifo il polizioso proprio la faccia pesce lesso questo qua è un amico del suo ragazzo che ci aiuterà poi sparisce vabbè mi hanno giudicato male sia gli italiani e sia gli americani perché pieni di bug c'è una storia che purtroppo non ha una fine doveva continuare ma poi per vari problemi non hanno non hanno fatto quindi io ragazzi io vi faccio questo non mi chiedete il seguito se perché non me lo posso inventare quindi prepariamoci a questa avventura di the ring terror surreal e spero che questa intro vi sia piaciuta ci sentiamo alla prossima e ciao 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 ciao